L'abbadia di Moscheta è raggiungibile deviando dalla statale 610 Imola-Firenzuola, poco dopo Rifredo, a sud di Firenzuola, 8 chilometri, e svoltando a sinistra. Una buona strada conduce al monastero Vallombrosano fondato nel 1034 dal beato Rodolfo dei Galigai per incarico di San Giovanni Gualberto. Il complesso fu più volte ristrutturato, in particolare durante il 1300. Non molto però rimane della costruzione del 1000, se non un muro e un arco che la tradizione vuole sia quanto rimase in piedi di un monastero troppo esteso per quel luogo, spesso minacciato dalle acque in piena del vicino torrente, che oggi invece scorre Pacifico verso Casetta di Tiara fra il Poggio Roncaccio e il Monte Frena. Soprattutto l'ingresso si può notare con uno stemma con una pianta topografica e la figuretta di un porcospino, simbolo di solitudine.